Ancora anziani in questa quarta, sul miglio, otto in prima, tre in seconda, in undici, la Sibilla con Vincenzo Luogo bene nell'ultima, la più gettonata, mezzo meccanico, in movimento. I cavalli che vanno a completare, è anche ottimo, un po' arretrato Point Lavec Kampf, che rinuncia, parte piano Naxos del Ronco. Proprio la Sibilla tenta di rendere difficile di essere scavalcata per rientrare e comandare, ma largo incumbe, tu Tarn Griff. E l'allievo di Palomba insiste, sta passando, Tarn, tredici e quattro il lancio, Tarn Griff al comando. Si riaffaccia subito la Sibilla, sarà un classico freeway per la Varenne di turno. La targata TRGF, dopo quattrocento metri di gara, passati in trenta, passa, ma incombono subito Pedro Macca, a largo, anticipato però dal cinque, Pier Vincenzo. Si completano i seicento iniziali, seicento in quarantaquattro e mezzo, si viaggia da uno e quattordici, abbondanti. E la Sibilla tenta ora di poter graduare, poiché Pier Vincenzo si limita a largo di Tarn Griff. Mezzo miglio, nell'ordine del cinquantanove e sei, quindici e uno di frazione. Allargo anche Point, Lavec, Kampf, al comando, la Sibilla, che va a completare il chilometro nell'ordine del quattordici e mezzo. Cinquecento alla meta, di dentro è sempre Tarn Griff e anche Maringo, a largo, Pier Vincenzo e Point, Lavec, Kampf. Allunga la leader, frazione, in quattordici e otto, fanno uno, ventinove e tre, tre quarti di miglio. Controlla bene la leader, si trascina solo Pier Vincenzo, gli altri stentano. Retta d'arrivo, la Sibilla viene sostenuta per prendere vantaggio. Scappa via Lomino, Pier Vincenzo viene a largo, si propone l'allievo di me. Tarne Griff viene a largo, si propone Tarne Griff e in gioco a traguardo Tarne Griff con Raff Palomba batte la Sibilla. Bella vittoria di Palomba, era Tarne Griff che proprio sul palo batte la Sibilla. Uno cinquantotte e otto, uno quattordici e tre, andiamo a leggere sei e trentacinque per l'allievo di Palomba che proprio sul palo batte nettamente la Sibilla. Per il terzo, dopo un po' molto tempo, i due si erano staccati, arriva il numero otto di Point Lovek Kampf.